Il Motor Show di Bologna torna nel 2014 e lancia la sfida al Milano Auto Show. Dopo l'annullamento della 38esima edizione per la totale assenza delle case automobilistiche, lo storico Salone dell'Auto Emiliano riapre i battenti dal 6 al 14 dicembre 2014. L'annuncio è stato dato dal presidente di Bologna Fiera, Duccio Campagnoli, che ha ufficializzato l'accordo con la società organizzatrice GL Events. Un ottimo risultato che tutela gli interessi della città, ha dichiarato il sindaco di Bologna, Virginio Merola, che non ha perso l'occasione per tirare una stoccata all'ex patrono del Motor Show, Alfredo Cazzola. Avevamo detto che Bologna non sarebbe stata a guardare di fronte alla competizione con Milano. Nel mese di dicembre, a meno di una settimana di distanza l'una dall'altra, il bel paese ospiterà due manifestazioni dedicate al mondo delle quattro ruote. Il Milano Auto Show, che si svolgerà nei padiglioni della Fiera Milano Rò dall'11 al 21 dicembre, è appunto il Motor Show di Bologna.